L'unico voto utile è quello in grado di garantire un futuro a questo paese. Un futuro fatto di soluzioni ai grandi problemi che lo affliggono in questo momento critico della sua storia. Parola dell'onorevole Francesco Paolo Sisto, candidato al Senato, nelle file di Forza Italia, nel collegio uninominale di Bari e Bat. Il sottosegretario alla giustizia ieri sera è stato ad Andria per una nuova tappa del suo tour elettorale in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre. L'occasione per incontrare i cittadini di questo territorio e illustrare i punti salienti del programma di governo. Idee nuove e nuovi protagonisti per una nuova fase politica del paese. L'onorevole Francesco Paolo Sisto suona la carica verso un deciso cambio di rotta guidato dal centro-destra. Il primo passo è quello da compiere in cabina elettorale. Brecarsi alle urne per dare un governo stabile e utile al paese. È evidente che se per avventura non ci fosse questa consapevolezza da parte dell'elettore si correrebbe il rischio di un paese esposto alla incertezza di governo. La coalizione di centro-destra è pronta a governare, ha tutti i numeri per poterlo fare, le competenze soprattutto. Basta col governo delle incompetenze, coloro che pretendono di poter governare sulla scorta semplicemente di una legittimazione formale. Per fare le cose bisogna saperle fare e averle fatte prima di entrare in politica. Questo è il nostro punto di riferimento. Competenze, coerenza, l'altro passaggio importante, e poi Costituzione. La Costituzione è la nostra guida, i principi della Costituzione sono per noi la garanzia che il paese lo sapremo guidare e guidarlo non temendo il confronto, perché poi quando i principi sono solidi, l'esperienza c'è, le competenze pure, il confronto va benissimo e rafforza quello che è il proposito di chi, come io mi auguro, possa vincere le elezioni, anzi stravincerle per poter governare il paese in tranquillità.